benvenuti al meteo di tele nuova le previsioni del tempo per domani mercoledì 5 ottobre 20 moderati da nord est sull'italia è previsto un ulteriore calo termico con nubi in aumento su veneto emilia ma anche al sud seppur con scarse precipitazioni se non qualche temporale mattutino su abruzzo e sicilia in campania arriverà aria più fresca secca che garantirà condizioni di tempo stabile ma allo stesso tempo causando un leggero abbassamento delle temperature specie di sera il cielo sarà poco rovoloso salvo locali addensamenti temperature come si diceva in diminuzione 20 moderati il mare mosso